Secondo turno di eccellenza che vede protagonista è lo stadio Capanni, la sevignanese di Mister Montanari e il Tropical coreano guidato da Bucci. I padroni di casa arrivano dal pareggio in rimonta al Calbi di Cattolica grazie alla zampata di Osaiande. Ospiti invece usciti sconfitti nell'esordio stagionale contro il Val Santerno. Arbitra il signor Bissolo di Legnago. Ma è subito una partita emozionante, neanche un minuto di gioco è subito la sevignanese in avanti, proprio con Osaiande il tiro dal lancio addirittura del portiere che esce di pochissimo sopra la testa di Fabri. Un minuto dopo sono sempre i padroni di casa a rendersi pericolosi, in questo caso con il numero 10 Protino, il sinistro che viene bloccato dal numero 1 Fabri. Risponde il Tropical coreano dagli sviluppi di calcio d'angolo, il pallone che viene respinto e poi ci prova Bartoli. Di prima intenzione deve respingere di nuovo coi pugni Papi. Al venticinquesimo il vantaggio della sevignanese con Protino. Il gol del classe 99 dalla respinta di calcio d'angolo si fa trovare pronto. E con questo termina il primo tempo, siamo infatti con le immagini già nella ripresa al terzo minuto di gioco. La punizione di Arlotti che viene respinta e poi ci prova dalla distanza lo stesso Scarponi. Conclusione molto alta. Si riprova Arlotti al sesto minuto di gioco e aveva anche preso le misure giuste perché la sua punizione si stampa sulla traversa. Ma la sevignanese punisce con questo assist splendido di Osagliande per Pacchioni che da quella posizione in corna di testa e trova il gol del raddoppio. Tutta la gioia di Pacchioni del classe 98 che dunque riesce a raddoppiare per i suoi. E arriva al ventunesimo il gol Cineteca di Mazza del 2004 appena entrato col sinistro. Non può farci nulla Fabri, una reazione arriva da parte del Tropical Coreano con il numero 10 Arlotti ma il tiro è alato e al 46esimo un batte e ribatti da parte della difesa del sevignanese e poi il colpo di testa che si poteva appunto rendere pericoloso. Ma per l'arbitro non c'è più tempo, i gol di Protino, Pacchioni e Mazza regalano i tre punti alla sevignanese con questo tris contro il Tropical Coreano.